Ciao, mi chiamo Alessandro Piva, io sono regista e per il cinema che faccio mi piacciono le sfide, sin da quando sono partito. Ora c'è un filmmaker che conosco, si chiama Fabrizio Rinaldi, che sta partendo anche lui con una bella sfida, con un mezzo nuovo che all'epoca di quando sono partito io non c'era. Si chiama Crowdfunding, si cercano i soldi in rete dalle persone che vogliono sostenere il progetto e io ho dato un'occhiata a questo progetto sul sito Indiegogo e mi sembra un progetto ben impostato. Ne ho letto abbastanza poco fa, mi sembra che sia ben impostato, Fabrizio ha fatto anche una bella presentazione che si può vedere sul sito e quindi lo voglio sostenere. Ci sono varie modalità di sostegno, della più piccola di 3 euro, poco più di un caffè come si dice, e 10, 20, si arriva fino a 1000 euro diventando dei veri e propri coproduttori di Fabrizio e del suo clan, del suo gruppo che ha ruolato per fare questo film. 12.000 euro non sono pochissimi, però è un film pieno di effetti e Fabrizio vuole mettere su un cast e una troupe degna di questo nome, quindi va premiato secondo me e io ho deciso di sostenerlo con un Celebrity Pack. Spero che anche qualcuno di voi abbia voglia di farlo, ovviamente anche non necessariamente con cifre importanti, però anche la cifra simbolica di 3 euro, se arriva da tanti, può aiutare Fabrizio a fare questo film e credo che se lo meriti perché è un filmmaker promettente in gamma. Grazie.